La protesta contro i nuovi divieti in tutta Italia, scontri e guerriglia a Milano e Torino, a Napoli, in corteo per la città Trieste, pacificamente in piazza. Conte vede le categorie produttive, se non marciamo insieme, aggraviamo la situazione, dice il Premier, tensioni nella maggioranza, opposizioni all'attacco. Virus, 17.000 nuovi casi in Italia, 141 le vittime, forte aumento di pazienti nelle terapie intensive in Europa, trema la Francia, scatta il coprifuoco in Belgio. Stati Uniti, il nuovo giudice della Corte Suprema e la conservatrice Barrett, che dice sarò indipendente. Un giorno storico per Trump, contrari democratici. Il rapporto migrantes sugli italiani nel mondo, l'allarme della CEI, Italia sempre meno giovane ed entusiasta. Il cardinale Bassetti, bene i nuovi decreti sicurezza. C'è acqua sulla Luna nella faccia rivolta verso la Terra, una spinta alla missione per riportare l'uomo sul satellite. 20 anni fa i primi astronauti sulla Stazione Satellitale Spaziale Internazionale. Buongiorno dal Tg2. In apertura le manifestazioni contro il nuovo decreto del governo che ha imposto le chiusure a diverse attività commerciali. Disposizioni che però da Nord a Sud Italia fanno paura, ad essercenti e liberi professionisti perché il timore di tutti è non riuscire più a ripartire. Ma a Torino e Milano le manifestazioni pacifiche si sono trasformate in guerriglia urbana. Allora subito la cronaca con gli inviati Leonardo Zellino e Stefano Pumagalli. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!